L'incontro in prefettura Siracusa questa mattina sugli stipendi pregressi dei dipendenti comunali di Rosolini. Definito deludente l'incontro dai sindacati, restalta la preoccupazione per i ritardi nel pagamento delle mensilità successive. Sono diversi gli interventi che andranno fatti nella palazzina che ospita la sede della quinta municipalità a Catania dopo l'incendio che ha colpito lo stabile sabato scorso. Da stamattina al via i sopralluoghi tecnici. Numerosi gli appuntamenti in riferimento alla campagna elettorale per le prossime regionali che hanno avuto luogo questo fine settimana. Si fa sempre più fitto il calendario di appuntamenti proposti dai candidati all'Ars in pieno fermento elettorale. Discariche abusive a Pozzallo, nella zona del porto, rifiuti abbandonati e scarti edili. Il sindaco della città, Roberto Ammatuna, dichiara come le cose stiano per cambiare in programma una serie di interventi. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione di MTG. In apertura torniamo a parlare del caso degli stipendi pregressi dei dipendenti comunali del comune di Rosolini. Questa mattina si è tenuto un incontro in prefettura a Siracusa, dichiarato insoddisfacente dai sindacati. Daniele Passanisi, segretario generale della FP CISL Raguse Siracusa, ha dichiarato che il Corrado Calvo, il sindaco della città, avrebbe inatteso le aspettative dei dipendenti ma anche dei sindacati, i quali in una nota congiunta dichiarano che lo stato di agitazione dei dipendenti continuerà finché non ci saranno delle risposte certe. Sul pagamento degli stipendi arretrati ai comunali di Rosolini abbiamo avuto tante promesse non mantenute dal sindaco Corrado Calvo. Resta la preoccupazione per i ritardi nel pagamento delle mensilità successive. Con queste parole Daniele Passanisi, segretario generale della FP CISL Raguse Siracusa, si esprime sull'esito dell'incontro tenutosi questa mattina alla prefettura di Siracusa, al quale rappresenta il primo cittadino di Rosolini. Il segretario di FP CISL dichiara di non essere per nulla soddisfatto dell'incontro a causa delle mancate garanzie da parte del sindaco di Rosolini. La mancata approvazione del bilancio di previsione, come dichiara il segretario di FP CISL, comporta l'impossibilità di stabilire nessun piano di riequilibrio che deve essere inserito all'interno del bilancio preventivo che deve essere approvato il prima possibile in sede di Consiglio Comunale, al fine di riportare somme che permetterebbero anche di sanare il debito con i dipendenti che ammontano ormai a tre mensilità in arretrato, alle quali si sommano due anni di salario accessorio. Confidiamo nel prossimo incontro fissato con la prefettura per metà novembre, prosegue Passanisi, per capire se fornirà il sindaco Calvo i dettagli a questo piano di riequilibrio. Sappiamo che non è stato fatto nulla di concreto, finora sono chiacchiere e promesse, conclude il segretario di CISL. Intanto il sindaco di Rosolini, Corrado Calvo, raggiunto da noi telefonicamente, dichiara che è stata avviata la procedura per la definizione dell'importante strumento finanziario che permetterebbe di risolvere la questione degli stipendi arretrati, ponendo fine al malcontento dei dipendenti. Tuttavia il primo cittadino sottolinea come l'attuale amministrazione è partita da una posizione svantaggiosa con debiti fuori bilancio causati da scelte poco oculate delle amministrazioni precedenti. Noi abbiamo deciso di porre in essere l'avvio di un piano di riequilibrio per porre un punto alla situazione, dichiara il primo cittadino, che aggiunge farò una riunione entro la fine del mese per predisporre l'Ali di Ribela. Nel frattempo attendiamo dei fondi dalla regione. Auspico che già a giorno 25 ottobre, il giorno in cui ci sarà la conferenza delle regioni e autonomie locali, si stabilirà il piano di riparto dei fondi che aspettano ai comuni, con cui potremmo anche sanare questo debito. E ora ci spostiamo a Catania perché sono diversi gli interventi che andranno fatti nella palazzina che ospita la sede della Quinta Municipalità a Catania, a seguito dell'incendio che ha colpito lo stable il sabato scorso. Interventi che riguarderanno il tetto, ma anche gli interni. Da questa mattina al via e sopra luoghi tecnici, ma vediamo i dettagli da Sara Donzuso. Dopo la paura di sabato scorso per l'incendio verificatosi nel palazzo di Via Lemario Rapisardi, sede della Quinta Municipalità, da oggi si cominciano i rilievi per verificare i danni, gli interventi da effettuare e i tempi che ci vorranno per aprire gli uffici. Come spiegato alla Direzione Manutenzioni del Comune di Catania, tra i primi interventi c'è la messa in sicurezza delle volte. Su queste grave il peso del materiale di risulta e lo stesso incendio, più l'acqua gettata per domare le fiamme. Finito questo intervento, si lavorerà sul rifacimento del tetto che in parte deve essere ricostruito. Occorrono però prima delle verifiche sulla staticità. Verosimilmente, se tutto procederà senza intoppi, entro un mese la struttura potrà essere riconsegnata, se anche l'agibilità verrà confermata. I tecnici, insieme ai Vigili del Fuoco, indagano anche sull'origine del rogo e pare esclusa l'ipotesi del dolo. Intanto, per evitare problemi alla cittadinanza, gli uffici della Quinta Municipalità sono stati spostati nel Mievigo numero 43 e in quelli del centro direzionale di San Leone. Ora apriamo la pagina della politica. Cancelleri, così come rappresentanti del Movimento 5 Stelle, non sono capaci di governare. La Sicilia non si può permettere un altro governatore incapace. E' quanto dichiara il senatore Givino, analizzando lo scenario politico a meno di due settimane dal voto delle regionali. Votare Cancelleri significa far perdere la Sicilia, avallando un sistema di mala amministrazione che ha già messo in un ginocchio realtà come Roma e Torino. Musumeci, invece, ha dimostrato di saper amministrare e solo così la Sicilia può avere un riscatto. Ad affermarlo il senatore Enzo Givino. Centrosinistra non ha niente da dire. Laddove dovesse vincere Cancelleri non vincerebbe né la Sicilia né i siciliani. Nello Musumeci non deve dimostrare nulla perché ha già dimostrato nel passato con uno straordinario dieci anni alla guida della provincia regionale di Catania. Abbiamo visto nella scorsa legislatura quando i 5 Stelle andavano a braccetto con Crocetta cosa è successo e con le loro riforme. Evidentemente questo papocchio ha voglia di continuare, quindi questo miceri gentile dall'altra parte Cancelleri forse potrebbero guardarsi in faccia. Povera Sicilia e poveri siciliani. Il fatto che il Tribunale di Palermo abbia bloccato quelle che sono le primarie interne al Movimento 5 Stelle può influire? Dovrebbe influire se il Movimento 5 Stelle fosse un movimento in chiaro con uno statuto depositato. Ebbene che i cittadini sappiano che non sappiamo nulla del funzionamento e la gestione democratica del partito come vengono fatte le scelte. Il Veneto ha deciso, vuole lo statuto, vuole l'autonomia, un po' anche la Lombardia. La Sicilia ce l'ha l'autonomia ma non l'ha mai invece saputa applicare. La Sicilia questo ce l'ha sin dal primo impianto e sappiamo perfettamente come non l'abbiamo saputo utilizzare. Non l'abbiamo saputo utilizzare sulla parte finanziaria, non l'abbiamo utilizzato nelle leggi che riguardano la parte elettorale, non l'abbiamo utilizzato correttamente per la sanità, per i lavori pubblici e andando via così. Probabilmente se non votassimo più il candidato deputato regionale della porta a fianco e scegliessimo invece quelli capaci, preparati e bravi, probabilmente lo statuto siciliano sarebbe la possibilità reale e concreta per i siciliani per rilanciare il loro territorio. Perché rinunciamo a essere la California e la Florida del Mediterraneo? Ancora io stesso non l'ho capito. Rivoluzione Cristiana sostiene la candidatura a Lars di Giovanni Mauro. L'onorevole Gianfranco Rotondi ieri pomeriggio a Ragusa ha dichiarato abbiamo scelto Mauro perché competente e interpreta meglio i valori cristiani e laici in cui crediamo, ha detto Rotondi. Sentiamo. Il leader del partito Rivoluzione Cristiana Gianfranco Rotondi ieri sera a Ragusa ha sostegno della candidatura a Lars di Giovanni Mauro nella lista di Forza Italia. Con Rotondi c'erano anche il coordinatore nazionale Gianpiero Catone, la coordinatrice regionale Elena Saviano e la referente provinciale Maria Carmela Jurato. Rivoluzione Cristiana appoggia le liste di Forza Italia e la candidatura di Musumeci come candidato presidente della regione siciliana, ha detto Rotondi nel corso del suo intervento e in provincia di Ragusa abbiamo scelto Giovanni Mauro. Siamo qui per dare una spinta decisiva a Musumeci perché non è questione di uno schieramento contro l'altro ma di vittoria della politica sulla barbarie dell'antipolitica e del populismo. La Sicilia assume una responsabilità nazionale. Se si dà disco verde alla barbarie del populismo questo paese non si terrà assieme ed io sono fiducioso perché i siciliani sono più esperti di politica rispetto a tutte le altre regioni. Ad intervenire appoggiando il senatore Mauro anche la coordinatrice regionale Elena Saviano. I candidati hanno svolto il loro lavoro politico in maniera leale, c'è stato molto movimento, molta partecipazione di persone per quanto riguarda Rivoluzione Cristiana naturalmente e siamo soddisfatti perché Rivoluzione Cristiana sta prendendo effettivamente una sua fisionomia nella regione siciliana. Ringrazio l'onorevole Rotondi e il suo movimento per avermi scelto come candidato da sostenere, ha detto Mauro, e insieme a loro voglio lavorare per contrastare la sterile protesta grillina che solo male porterebbe alla Sicilia. Io in Forza Italia dal 94 non ho mai avvertito il bisogno o partecipato a quella gara del cambio casacche che tanto male fa alla politica e tanta truppa dà al voto della protesta grillina. Una protesta grillina che potrebbe solo che far male alla nostra Sicilia, una protesta grillina che non ha nulla da proporre per lo sviluppo della nostra terra e per la quale dobbiamo assolutamente erigere un muro, ma è il muro della buona politica e il muro della politica del fare. Ora torniamo a parlare di Caporalato. Il leader del Movimento dei Forconi e candidato all'Ars, Mariano Ferro, interviene sul tema dichiarando che servirebbero nelle norme per regolamentare il lavoro degli extracomunitari. Questo gioverebbe anche alla crisi del settore portando delle migliorie. Lo aveva già fatto in passato con gli arresti di giugno e luglio, oggi torna a parlare. Mariano Ferro torna a parlare di Caporalato. Lo fa non entrando nel merito delle singole vicende, ma si schiera con gli agricoltori e con quegli imprenditori agricoli che hanno le loro dipendenze extracomunitari che non conoscono il lavoro nelle serre e che, stando al suo punto di vista, spesso vengono pagati meno, proprio per questo motivo. Per Ferro il Caporalato deve essere abbattuto, aiutando gli imprenditori ormai in ginocchio a causa della crisi. Sul Caporalato io credo che ci sia da normare diversamente quello che accade. Se ci fossero norme diverse per questa manodopera extracomunitaria, io credo che potrebbe anche essere diverso rasserenare gli agricoltori che vanno a fare impresa tra mille difficoltà perché l'agricoltore non può andare in campagna con la paura di essere arrestato. L'agricoltore va in campagna tranquillo per lavorare perché ogni giorno, sappiamo quello che succede, hanno dovuto adattarsi ai prezzi, ai costi di produzione, al costo del lavoro che viene dall'Africa perché questa è la guerra economica che stiamo vivendo. Come dovrebbe cambiare a questo punto? Guarda, mi viene da chiedere solo una cosa semplice. Perché il lavoratore in campagna è sottopagato, sfruttato a 750 euro al mese? Questa è una domanda che mi faccio da anni anche perché alla stessa maniera di chi fa formazione e lavoro sa benissimo che l'apprendista non è uno che è specializzato in quel lavoro. Bisognerebbe equiparare e quindi studiare una forma, vedere di capire come possiamo normare questo lavoro extracomunitario. Questa è per mettere nella serenità tutti i lavoratori, tutti gli imprenditori agricoli di questa terra. Rinone programmatica ieri mattina a Modica per l'On. Orazio Ragusa, candidato nella lista di Forza Italia all'ARS. Stiamo mettendo a punto i tasselli di una serie di iniziative che si rendono necessarie per rilanciare con entusiasmo, determinazione e passione il mio impegno a Palermo, ha detto l'On. Ragusa. Entusiasmo, determinazione e risolutezza sono state queste le peculiarità che hanno caratterizzato la riunione programmatica di ieri mattina a Modica dell'On. Orazio Ragusa, candidato all'ARS nella lista di Forza Italia. Ragusa si è confrontato sui contenuti del suo progetto che punta ad una sempre maggiore dedizione nei confronti del territorio ebleo, un incontro molto partecipato nel corso del quale il candidato all'ARS ha voluto condividere una serie di spunti sulle prospettive che si rendono necessarie per i prossimi cinque anni, oltre a voler chiarire quali possono essere le direttrici adeguate da seguire per ridare nuovo slancio alla sua azione dal rappresentante di questo territorio a Palermo. Il mio programma, ha detto Orazio Ragusa, si può racchiudere in una parola opportunità, quella che dobbiamo continuare a dare all'intera provincia di Ragusa che ha subito una serie di attacchi da parte di chi sta dandosi da fare come non mai rispetto al passato per penalizzarci. È chiaro che non vogliamo tutto questo e che lotteremo con l'auspicio di raggiungere i traguardi che questa terra molto speciale, ha detto ancora nel suo intervento e il candidato di Forza Italia, che amo in maniera incommensurabile, merita sino in fondo. Per incontrare la gente che mi segue con amore e con passione in questa bellissima esperienza elettorale, poi per spiegare il nostro programma, tengo a dire che sono stato l'unico candidato in questa provincia che ha avuto il coraggio di fare un programma per spiegare a tutti cosa diventerà la provincia di Ragusa se avremo la forza di essere eletti. cambieremo, ripartiremo, sviluppo, crescita, infrastrutture, tutto quello che questa provincia attende da anni, nella nuova legislatura saranno delle attuazioni importanti perché ci vede propositivi, perché ci vede in crescita, perché la provincia di Ragusa non può perdere questo appuntamento e ne approfitto per dire a tutti i cittadini che vorranno partecipare e collaborare a questa esperienza, votate Orazio Ragusa. Il candidato all'Ars per PD Nello Di Pasquale ha inaugurato sabato sera a Comiso il suo comitato elettorale. Anche la città di Comiso ha il comitato elettorale del candidato del PD a Lars Nello Di Pasquale. L'inaugurazione è avvenuta sabato sera alla presenza di amici e simpatizzanti, tra cui anche il consigliere comunale Salvo Riuzzo. Molto è stato fatto in questi cinque anni, ha detto Di Pasquale, e certamente si può fare di più e meglio. Questo è l'impegno che ha preso con i cittadini della provincia di Ragusa, ai quali, ripeto ormai da settimane, che non può esserci campanilismo in una sfida del genere. Un parlamentare non rappresenta una singola città, ma a Palermo, all'Assemblea regionale siciliana, deve fare gli interessi dell'intera area territoriale che lo ha espresso. Bisogna saper proporre una visione complessiva e progettorale su base provinciale, tentando di ascoltare tutti e aiutando ogni comunità a portare avanti le proprie battaglie e a soddisfare le legittime aspettative di uomini e donne laboriosi, anima produttiva di una delle realtà più effervescenti dell'intera regione. Di Pasquale ha poi ricordato i suoi interventi a favore del territorio, della città casmenia, come l'aeroporto e lo sblocco dei fondi necessari per il pagamento degli uomini radar, e ancora il collegamento con la 514 e il raddoppio della Ragusa-Catania, il cui progetto partirà nel 2018. Comiso è una realtà importante, ha visto anche l'attività mia politica in seconda commissione intervenire su Comiso, il finanziamento dell'aeroporto di Comiso per il triennio nasce da un emendamento presentato da me in commissione bilancio e che vede il finanziamento dell'aeroporto per tre anni, per un bilione e mezzo l'anno. E non dimentichiamo i collegamenti con la 514 che ci sono già lavori in corso e così come la Ragusa-Catania che ci ha visti impegnati in questi anni, che è finanziata nella sua totalità e che nel 2018 partirà. Questa è un'area importante, ci sono tantissimi giovani e anche giovani amministratori che vanno seguiti e a cui va tutta la mia gratitudine e il mio impegno e l'assunzione dell'impegno affinché questa città può andare avanti. Inaugurazione del comitato elettorale sabato sera anche per il candidato del PD a Lars, Giuseppe Roccuzzo. Dopo Modica e Ispica adesso anche Pozzallo. Dopo Modica e Ispica il candidato del PD a Lars, Giuseppe Roccuzzo, ha inaugurato sabato sera il comitato elettorale a Pozzallo. Grande calore, affetto e partecipazione da parte di tutti i presenti, ha dichiarato il candidato nel corso del suo intervento. Tra la gente c'è voglia di rinnovamento. Ha aggiunto alla provincia di Ragusa bisogno di nuovi rappresentanti. Credo che la classe politica di questa provincia abbia portato risultati scadenti. Sono troppe le cose rimaste in sospeso. La gente è lontana dalla politica, non a causa dei partiti, ma di chi li ha rappresentati in questi anni. C'è stata troppa autoreferenzialità e ai cittadini sono rimaste solo le promesse. La mia candidatura vuole essere la risposta all'esigenza di totale rinnovamento chiesta a gran voce dalle famiglie, dalle imprese e dai cittadini. Vogliamo riempire di sostanza il concetto di rappresentanza. Condurremo una campagna elettorale all'insegna del contatto diretto con le persone, face to face, con la semplicità, con l'obiettivo di vincere la sfida e iniziare la vera sfida a partire dal giorno dopo le elezioni. Roccuzzo ha poi puntato l'attenzione sui problemi che attanagliano la città di Pozzallo, uno dei tanti quella della messa in insicurezza del porto e del suo collegamento con l'autostrada Siracusa Ragusa Gela. Anche qui si avverte l'esigenza dei cittadini come in tutta la provincia di un totale rinnovamento della classe politica provinciale, della deputazione e con questa candidatura noi vogliamo rispondere appunto a questa esigenza. Sui temi importanti ovviamente per Pozzallo è molto sentita la questione del porto in particolar modo per la messa in sicurezza e l'impegno che è stato preso e quello finalizzato alla realizzazione della bretella di collegamento appunto con l'autostrada, autostrada che come tutti sappiamo procede molto a rilento ed è molto necessario, ed è necessario dicevo cercare di accelerare, di far sì che il CAS possa erogare i fondi per procedere celermente con i lavori. E cambiamo argomento, topi che camminano nelle classi. È quanto denunciato dai genitori degli alunni della scuola Nazario Sauro di Via De Manochiesa a due passi da Viale Mario Rapisardi. Oggi i genitori non hanno permesso ai propri figli di ricarsi a scuola perché nonostante una deratizzazione fatta, effettuata la scorsa settimana, pare che nulla sia cambiato. La per eside dal canto proprio al canto suo garantisce che tutti gli interventi del caso sono stati compiuti. è stata fatta da noi mamme una richiesta e questo è il foglio del comune, non so perché io ce l'ho, ce l'ho perché me l'hanno rilasciato perché la richiesta l'abbiamo fatta noi mamme. Automaticamente ci hanno detto ragazzi non fate nulla perché comunque la scuola è piena, venerdì si riproperanno le stesse problematiche. Ed è stato vero, venerdì passeggiavano nel corridoio e i bambini d'Albagno non potevano attraversare. Dal comune vi hanno detto che questi topi sarebbero tornati? Certo perché il problema, guardi cosa c'è anche a livello comunale, oltre alla scuola c'è un quartiere sporco. Quindi c'è, scusa, ha continuato le lezioni con la mucchina, hanno passato la mucchina ed è finita là, con il buco sotto i piedi, con il topo sotto i piedi della bambina. Nelle parole di questa madre è racchiusa tutta la rabbia dei genitori, degli alunni della scuola Nazario Sauro. Da tempo lamentano la presenza di ratti nelle scuole, sono stati loro stesse a chiedere l'intervento del settore ecologia del comune di Catania che ha fatto deratizzazione e disinfezione. Gli operai hanno anche allargato le braccia, sottolineando che i topi continueranno a tornare a causa dei terreni incolti nelle zone circostanti e, secondo i genitori, per la presenza nell'istituto di vari buchi da dove possono entrare proprio i topi. Ecco la replica della dirigente scolastica. Il problema sicuramente si risolverà perché una volta che la deratizzazione è stata fatta non possiamo continuare a utilizzare il farmaco un'altra volta. Dobbiamo solo aspettare che questo agisca. È un plesso dove accanto c'è un grande e vasto giardino dove non è edificato. Abbiamo già parlato, vi ricorderete, delle discariche a cielo aperto e dei rifiuti abbandonati a Pozzallo in zona Porto. Tra 15-20 giorni verranno montate telecamere per incastrare chi incivilmente sporca all'esterno dell'area del Porto e del secondo scivolo. E questo quanto dichiara il sindaco della città di Pozzallo, Roberto Ammatuna. Ma sentiamo i dettagli da Marco Scavino. Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, interviene sulle discariche che insistono in due zone, in particolare della città. La prima al secondo scivolo, sulla strada per Santa Maria del Focallo. La seconda, invece, è quella che si sviluppa nell'area esterna al Porto, oggetto di denuncia da parte della nostra redazione nelle precedenti edizioni del nostro telegiornale. Come ricorderete, infatti, vi avevamo raccontato di come i rifiuti in alcuni casi fossero abbandonati anche sulla scogliera. C'era un po' di tutto, da scarti di cibo, come teste di gamberone e chicchi di mais, a materiale di scarto di ogni tipo, dai sanitari alla ceramica a scatolame vario. Il sindaco Ammatuna, contattato da noi telefonicamente, aveva messo in evidenza i punti critici della città, in riferimento ad episodi di abbandono illecito di rifiuti, e aveva annunciato che avrebbe comunicato una importante svolta. Oggi abbiamo incontrato il sindaco Ammatuna, nell'ufficio tecnico del comune, e ci ha illustrato, punto per punto, cosa cambierà da qui a 15-20 giorni nel comune marinaro. I netturbini cercano di smaltire il tutto nelle prime ore del mattino, ma già dopo qualche ora queste discariche sono piene di qualsiasi tipo di materiale. Abbiamo già affidato un incarico ad una ditta di installare due telecamere fisse al secondo scivolo nella zona retroportuale. Abbiamo anche approfittato dell'occasione per dotare una macchina dei vigili urbani di una telecamera mobile. Avviseremo quindi i cittadini ufficialmente che ci sono queste telecamere e poi ognuno si assumerà tutte le responsabilità. Il mio invito non solo ai cittadini, ma anche a chi viene da fuori, a non usare questi metodi perché sono dei metodi incivili, non corretti, perché il decoro di una città e soprattutto delle periferie di una città che ha l'ambizione di avere uno sviluppo turistico è importante. Risolvere questo problema mi pare di fondamentale importanza. E' verso in uno stato di degrado anche il parco Giovanni Paolo II nel centro storico di Ragusa. A segnalare il decadimento della zona non solo ai cittadini, ma anche la consigliera comunale del gruppo Insieme, Elisa Ammarino, uno dei polmoni verdi della città, capoluogo, versa in condizioni pessime, in particolare per i rifiuti abbandonati. Carmela Minardo Degrado, sporcizia e incuria, si presenta così uno dei parchi più belli della città di Ragusa. L'abbandono in questa zona centrale della città, capoluogo, regna sovrano. Ma non solo questa, tutto è in degrado, tutto, è una miseria e crassa, non lo so. Io una sono... No, non ce l'ho parole. È troppo miseria, è troppo delassamento, non interessa a nessuno niente, è un menefreghismo totale. Vandano le bottiglie e boatte di Coca-Cola, aranciate, scatolette di pizze, eccetera, eccetera. Le porta qui il cane a sgambettare? No, siamo solo di passaggio qui, evito di portarlo. Ci sono troppi rifiuti, troppi detriti, troppe... insomma, non è una zona pulita per un cane. Zona prescelta dai vandali che perseverano nell'inciviltà e nel lasciare i loro regali all'ambiente e alla comunità. Mancano i controlli e la sera l'aria diventa meta fissa per coloro che sporcano tranquillamente quella parte che si trova al centro del tessuto urbano. La segnalazione giunge non solo dai cittadini indignati, ma anche dal consigliere del gruppo insieme, Lisa Marino, che invita l'amministrazione a prendere provvedimenti sia con l'installazione di telecamere che attraverso i controlli da parte della Polizia Municipale. Il degrado è sotto gli occhi di tutti. Prima la zona era maggiormente controllata, ci spiega un cittadino a microfoni spenti, quando c'era il bar aperto. Adesso tutto è abbandonato. L'amministrazione aveva lanciato una consultazione online per la riqualificazione della zona, conclusasi a giugno scorso. Ad oggi però nulla è stato fatto. Sì, sì, ma non è solo colpa di chi non li raccoglie, ma è colpa anche di noi cittadini che buttiamo le cose dove ci pare. I signori vigili non si fanno nemmeno una passeggiata, perché basta prendere qualcuno a sapere che farebbero delle multe e qualcuno ci pensasse prima di lasciare le cose in giro. E restiamo a Ragusa dove lo scienziato ragusano Stefano Pluchino, da anni impegnato nella ricerca all'estero contro la sclerosi multipla e le malattie degenerative, ha incontrato oggi nella sua città natale una classe di alunni della scuola elementare. Noi lo abbiamo incontrato di persona per conoscere i risultati del gruppo di lavoro a Cambridge. Scoprire uno scienziato, toccare da vicino il suo mondo, i suoi studi, il suo lavoro, ascoltare le sue parole e osservare i suoi gesti. È l'esperienza che hanno potuto vivere i bambini della scuola elementare Maria Leventre di Ragusa a confronto con Stefano Pluchino, scienziato appunto ragusano ma, come tanti talenti nostrani, che ha trovato all'estero la dimensione ottimale per le sue ricerche. Da anni coordina a Cambridge un gruppo che sta cercando di sconfiggere attraverso l'uso delle cellule staminali la sclerosi multipla e le malattie degenerative. Un lavoro duro e faticoso nel sacrificio di sé e della famiglia, ma anche un progetto che ha addosso gli occhi del mondo ed una missione di vita. Nel mio ambito che le neuroscienze applicate sono già iniziati i primi studi clinici, si sa molto di più rispetto a quello che sapevamo qualche anno fa su come controllare il comportamento dei cellule staminali in laboratorio, sono state generate, sono state identificate sorgenti complementari o alternative di cellule, quindi secondo me i passi avanti sono importanti. Ovvio che quando si parla con i pazienti la risposta che si vuole è quando. Il quando non è ancora lì, ci siamo avvicinati in maniera importante, quindi io lo vedo il futuro in maniera abbastanza ottimistica. Tantissime le domande che i piccoli hanno rivolto a Stefano Pluchino, che ha spiegato il suo segreto. Sono affetto dal disturbo della curiosità, ha detto ai piccoli studenti, invitandoli a non mollare mai nella ricerca dei perché. Molto spesso le domande che ti vengono dai bambini sono quelle più difficili a cui rispondere. Devo dire che hanno fatto tutte domande molto sensate, ovviamente su un background di ingenuità e di genuinità infantile, ma tutte domande molto sensate, quindi secondo me erano stati ben preparati dagli insegnanti e hanno mostrato un approccio alla scienza candido che mi fa sorridere. Quella di oggi è una delle tante iniziative che la scuola Marielle Ventre promuove per stimolare la conoscenza dei propri piccoli studenti. La prima cosa che hanno detto quando gli ho detto che veniva uno scienziato, che loro hanno chiesto vero, sì uno scienziato vero, hanno immaginato di vedere una persona prima di tutto con i capelli cotonati, bianchi, in su, certo quando l'hanno visto una persona con i capelli rasati, già si smontano i cliché. È una cosa bella perché hanno capito che la scienza non è una cosa che tu studi sui libri, ma è una cosa che tu fai. E ha preso il via anche a Ispica lo scorso sabato la settima stagione degli appuntamenti culturali del gruppo Ispicese del Caffè Quasimodo. La serata di apertura tenutasi nell'aula consigliare di Palazzo Bruno è stata dedicata alla presentazione del romanzo Ericomè di Angelo Aliquò, già commissario straordinario dell'ASP di Ragusa. Domenico Pisana, presidente del Caffè Quasimodo, ha evidenziato come Aliquò sia uno scrittore di cose e il suo interesse si indirizzi verso le cose realmente accadute, verso il documento. Angela Aliquò, insomma, ha proseguito Pisana, riesce nel suo libro a costruire un percorso narrativo nel quale la lezione che deriva dai fatti narrati diventa non l'approdo finale, ma l'inizio di nodi problematici e di riflessione per la cultura del nostro tempo. L'evento è stato arricchito dalla lettura di brani tratti dal romanzo, interpretati da Fiorenza Cirmi e Meluccia Fronterè, della compagnia Nuovo Teatro Popolare di Ispica e da intermezzi musicali a cura di Giuseppe Gulino al sassofono e di Innocenzo Leontini al pianoforte. L'acqua torna a essere potabile in tutta la città di Comiso. A certificarlo è l'ASP, servizio Sian della città, in seguito alle analisi batteriologiche eseguite su campioni dell'acqua prelevati, revocata quindi l'ordinanza sindacale del divieto di utilizzo ai fini potabili dell'acqua da parte del sindaco Filippo Spadaro che dichiara continuerò a vigilare sulla salute pubblica e nel dubbio, anche se piccolo, non esiterò a prendere decisioni forti per salvaguardare la salute dei miei concittadino. Le precauzioni non sono e non possono essere mai troppe. E parliamo di sport, si è conclusa ieri la tredicesima edizione degli Ibla Open di tennis dedicata alla memoria di Bruno Peruzzi. Sono stati più di cento gli incontri che si sono disputati nel campo di Santissima Maria Lanova a Ragusa Ibla. Andrea Licata ha vinto il singolare maschile battendo Guido Scribano. Rosanna Palongoya ha sdoppiato il successo dello scorso anno battendo in finale Luana Gravina. Nel doppio femminile, primo posto per la coppia Marisa Fraglica-Marcella Caruso che si sono imposte sul duo Rosanna Balongoi e Adriana Di Pasquale. Il doppio misto è stato vinto dalla coppia Mario Parisi, Luana Gravina che si sono imposti sul duo Giorgio Biazzo e Adriana Di Pasquale. Per problemi tecnici è stata rinviata la finale del doppio maschile presente alla premiazione Anna Conti, vedova di Peruzzi e Antonella Caramia in rappresentanza del CSI. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. Vi auguro buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.